Avete presente quando ho guardato un video di Giovanni Giorgi? Il momento in cui tira fuori i superpoteri. Ecco, io ogni volta gli dico che figata, anch'io vorrei fare quella roba lì. La buona notizia è che Giovanni ha fatto un nuovo lavoro didattico, proprio incentrato sul suo batterismo. Quindi abbiamo brani, groove, feel, fraseggio, tutto con audio, video e partitura sincronizzato e gestibile, con un'ottima tecnologia. Quindi, a questo punto, poche scuse e bisogna ricominciare di nuovo a tirarsi sulle maniche. Allora, sono qui con l'amico Giovanni Giorgi, che mi ha fatto una sorpresa venendomi a trovare, onorandomi della sua presenza, in quanto uno dei miei batteristi preferiti, Livano Italiano, e mi ha fatto vedere il suo ultimo lavoro su questo metodo che ha concepito veramente intelligentemente, dove è spiegato ogni cosa su quello che riguarda il suo stile, il suo modo di suonare, e anche con un apporto tecnologico veramente notevole. Per me che sono un analogico, dato la mia veneranda età, ho visto che c'è veramente un modo di imparare veramente in modo molto più semplificato e attuale il suo drumming, che non è di tutti i giorni. È stato un piacere averlo qui con me e aver visto questo lavoro, di cui io diventerò sicuramente un adepto. Ciao a tutti! Grazie a tutti!